Nel mio servizio missionario di visita dei seminari maggiori diocesani in Italia ho trovato l'importanza di fare questo servizio perché la realtà è che a volte la missione ad gentes, la missione al di fuori, è un po' trascurata, è un po' dimenticata nel senso che c'è molta preoccupazione con la realtà locale, gli diocesi hanno poco clero, c'è molta preoccupazione ai propri problemi e c'è poca apertura al mondo, alla realtà, alla finestra, dimenticando che questo ci rende più chiese. Allora la nostra presenza ci ricorda di aprirsi agli altri qui e fuori dalle nostre frontiere perché è lo stesso dinamismo di chiesa missionaria che vuole molto Papa Francesco a questa chiesa in uscita. Quindi l'augurio è davvero che il convegno nazionale seminaristi possa aiutare i preti ad essere preti per il mondo, per tutto il mondo.